Flint, sono papà. Quando hai un attimo, vieni alla bottega dello spuntino, ok? Certo, papà. Pronto. Sto arrivando, papà. Sarò al negozio in un attimo. Pulverizzato! Ancora cibi. Devo rifugiarmi al negozio. Corri, figliolo. Ho queste polpette, faranno di te una piadina. Sarò più forte del previsto. Oh, no. Se le polpette crescono ancora, sarà un vero disastro, Slim. Ezza, entriamo. Figliolo, a volte è meglio abbandonare la nave piuttosto che affondare. È arrivato il momento di distruggere quel tuo aggeccio. Ma papà, è la mia invenzione migliore. Dopo le polpette giganti, tornai al laboratorio per spegnere il replica cibo. Ma il telecomando del replica cibo era sparito? Col pericolometro solo rosso. E i turisti in arrivo? Capì che dovevo prendere in mano la situazione.